Il suo atteggiamento da storico rispetto a questo rischio, quello di voler far rispettare certi sentire di oggi rispetto al passato. Ma diciamo che io facendo un grande sforzo posso arrivare a trovare delle ragioni che spiegano, non giustificano, ma spiegano una tendenza che mi sembra completamente catastrofica e delirante della nostra epoca. Posso arrivare a capirlo in questo senso, che nella nostra pedagogia da sempre c'è stata una certa confusione fra lo studiare qualcosa e il celebrare qualcosa come modello da seguire. La civiltà occidentale si è costruita una pedagogia fatta di modelli, di grandi uomini, di grandi testi, nei confronti dei quali l'atteggiamento era reverenziale. Com'è reverenziale l'atteggiamento di Dante? Verso Aristotele, verso Virgilio? Un residuo di questo atteggiamento che dovrebbe essere morto e sepolto dal pensiero critico moderno, il quale dovrebbe aver chiarito una volta per tutte che noi studiamo Giorgio Washington, non perché pensiamo che grande uomo era, vorrei essere come lui, ma perché pensiamo che conoscere il passato della nostra specie su questo pianeta sia una cosa utile, forse perfino necessaria. Invece il pensiero critico non ha cancellato del tutto questo atteggiamento, rimane una qualche confusione per cui se io guardo via col vento devo anche pensare come è vero, era proprio così. E se io studio Dante devo anche pensare che grande uomo era, io voglio abbeverarmi al suo insegnamento. Ecco, se le cose stanno così e non dovrebbero stare così, posso capire lo shock di chi poco dotato di strumenti critici, scopre che la grande opera esprime anche pensieri o valori non uguali ai nostri, scopre che il grande uomo possedeva schiavi e allora va nel panico, perché non dispone della maturità critica per dire, ma chi se ne frega? Non è mica per quello che io lo studio. Io non studio mica i greci perché vorrei che il mondo fosse ancora come ai loro tempi, ma studio i greci perché hanno prodotto delle cose fondamentali che sono, senza conoscere le quali, sono più indifeso nel capire il mondo, oltre al fatto che mi provo di esperienze intellettuali straordinarie di cui non vedo perché dovrei provarmi. Se invece uno crede che mi può piacere la statua di Marco Aurelio in Campidoglio, solo finché ignoro che c'erano gli schiavi dell'impero romano, e quando invece scopro che Marco Aurelio possedeva schiavi, mi viene voglia di buttare nel Tevere la statua di Marco Aurelio, allora purtroppo siamo a un livello, ecco in Italia non credo ci siamo ancora arrivati, ma ci arriveremo, perché tutte le mode che arrivano dall'America sono quelle. Da loro mi dicono che siamo già a quel livello lì, ecco c'è questa forma di incredibile ingenuità e immaturità sui motivi per cui si studiano e si conoscono le cose. Un antidoto? Guarda, continuare a ripetere questa cosa, e cioè che appunto non c'è bisogno di condividere tutti i valori di un grande autore per riconoscere che è un grande autore. Il bello è che questa cosa è stata già fatta nei decenni scorsi, è stato già detto che Selina era nazista, e tuttavia si è scoperto che Selina vale la pena di pubblicarlo e di leggerlo, ecco francamente. Per cui ecco che adesso si debba risalire indietro nel tempo a rifare la stessa operazione. No, forse un antidoto, siccome diciamo queste battaglie culturali si combattono anche un po' scioccando gli avversari, quando si riesce, io credo che sia il caso di ripetere che questo atteggiamento diffuso oggi, per cui noi guardiamo ad altre civiltà, quelle del passato nel caso specifico, dicendo come siamo superiori a loro, come li disprezzo per il fatto che i loro valori e comportamenti non sono i nostri. Ecco, questo è lo stesso identico atteggiamento che gli occidentali cent'anni fa avevano, non verso il passato ma verso le altre civiltà del presente, no? I neri, i gialli, no, tutti inferiori, la civiltà occidentale è superiore, i nostri valori sono migliori. Oggi noi non vorremmo mai ripetere gli stessi sbagli degli occidentali che dicevano io sono bianco, tu sei nero, è chiaro che sei inferiore, no? E nello stesso istante diciamo io vivo adesso, tu vivevi nell'antica Grecia, è chiaro che sei inferiore, no? Ecco, forse questo discorso potrebbe arrivare a far dubitare qualcuno, ecco. Ecco, forse questo discorso potrebbe arrivare a far dubitare, Ecco, forse questo discorso potrebbe arrivare a far dubitare, Ecco, forse questo discorso potrebbe arrivare a far dubitare,